mi sono avvicinato al mondo dello spettacolo quando avevo 16 anni però qualche tempo dopo quando ne avevo 18 ho capito che sarebbe stata la strada della mia vita un percorso che ho iniziato in un paese della sardegna in cui sono rimasto colpito di come si possano a volte creare delle comunità da persone molto diverse allo stesso tempo puoi andare uniti verso un obiettivo comune che è quello di realizzare uno spettacolo teatrale nei miei spettacoli ho cercato di ricreare questo infatti coinvolgo sempre gli abitanti dei luoghi in cui realizzo le messe in scena e lo faccio attraverso dei laboratori quegli spettatori hanno un ruolo fondamentale nello spettacolo quando faccio quando creo quando scrivo una drammaturgia mi chiedo sempre che ruolo hanno gli spettatori partecipano alla messa in scena come dei veri protagonisti questo perché mi piace l'idea che lo spettacolo sia unico e irripetibile e come in una favola lo spettatore diventa il protagonista della storia non vedranno tutto quello che è stato concepito nello spettacolo ma una parte attraverso un percorso questo farà sì che poi alla fine si possono confrontare con altri viaggiatori e raccontare la propria esperienza non utilizzo né palco né platea gli spettatori si muovono attraverso dei percorsi che li portano a vivere le scene in maniera itinerante a volte creo dei labirinti altre volte mi piace utilizzare gli spazi della città in cui vie e piazze diventano le scenografie naturali in cui il pubblico si muove all'interno una messa in scena in cui non ci sarà solamente la visione ma anche gli altri sensi quindi anche l'olfatto il gusto e il tatto entrano in gioco mi piace unire tutte le discipline artistiche in questo modo teatro danza musica video e nuove tecnologie si fondono in un unico spettacolo totale iscriviti al canale grazie a tutti